Demos Kratos, democrazia in greco antico Carissimi lettori, con questo libro e faremo viaggiare con la nostra macchina del tempo, ci guiderà in un meraviglioso percorso nel passato, alla scoperta della nascita della democrazia. Visiteremo a Gorà nell'antica Atene, il Senato a Roma, nell'Urbe, andremo in America ed anche a Parigi per conoscere conquiste democratiche delle famose evoluzioni. Approveremo infine nel nostro paese, l'Italia democratica, buon viaggio a voi e a noi. Siamo nel VI secolo a.C., Solone, padre della democrazia, panna nella Gorà. Dobbiamo limitare il potere dell'aristocrazia e dare più ampia importanza alla vita politica di tutti i cittadini. Roma, seduta del Senato, della Repubblica. Ave senatori, ordine del giorno, combattimenti contro colera e aiuti militari da vivere alle province. Si vince, si passa alle votazioni, contrari, favorevoli, assenuti. America, l'unzione, la conquista o la democrazia? Americani, vittoria, abbiamo lo Stato democratico, vita, libertà, felicità. È la prima volta che si riconosce l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. Francia, Parigi, la rivoluzione francese, riconosce la sovranità popolare. E viva! Anche noi viviamo in uno Stato democratico. È stato un percorso interessante. Abbiamo imparato quanto sia stato difficile far nascere e garantire la democrazia. Con la guerra in Ucraina ci siamo resi conto che la democrazia è un valore importantissimo che non possiamo permetterci di perdere. Al prossimo viaggio! Viva l'Italia democratica! Grazie a tutti! Grazie a tutti!